1,2,3 Ok, aprivi le occe Come è? Ah, è molto meglio Ok, io ho... Io provo a provare a provare La mia ha detto che ho paura qui Quindi, io andrei qui Oggi, dove hai paura? Qui, ok Ok, toccavo Io provo a sentire con le mie mano Questo punto Smaller Calcio Mauro Ha Abbaccio Una una Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.